Il grande caldo, un pericolo soprattutto per chi va in montagna. È stata l'estate dei malori sulle cimelecchesi, con l'ondata di AFA che ha messo a dura prova gli escursionisti, tanto da spingere il soccorso alpino a lanciare più volte l'allerta. Le temperature alte, l'esposizione continua al sole, abbinata alla fatica dell'arrampicata, hanno costretto molte persone, soprattutto anziane, a fermarsi e a chiedere l'intervento dei soccorsi. Non escluso che anche l'ultima vittima, Giuseppe Tentori, 81 anni, esperto di montagna e perfettamente attrezzato, si è precipitato per più di 100 metri, proprio a causa di un malore. I consigli del soccorso alpino sono sempre gli stessi, è meglio, spiegano gli esperti, fare attenzione e capire se la preparazione fisica è sufficiente, oltre a portare sempre con sé acqua abbondante per idratarsi e un cappello per riparare la testa. Consultare il vostro medico se avete qualche dubbio, saprà dare le indicazioni corrette per valutare se fare una bella camminata in montagna, oppure se rinunciare o riconsiderare il percorso in base alle proprie possibilità. Non sono mancati poi i casi di chi invece ha affrontato le cime senza preparazione. Con le scarpe da tennis in vetta la grigna, vicino alle pozze create dai torrenti, in secca con le ciabatte, escursioni secche arrivano dopo aver visto le foto su internet senza conoscere la zona e i sentieri, racconta Marco Anemoli, responsabile della diciannovesima delegazione all'Ariana. È importante studiare il percorso, guardare le previsioni meteo, vestirsi in modo adeguato, soprattutto usare la testa e non basarsi solo sui video e sui social. Come quei ragazzi ad aprile che volevano arrivare al bivacco sul Monte Due Mani di notte perché l'avevano fatto i loro amici, per salvarli abbiamo rischiato anche noi. C'è poi il problema dei cercatori di funghi, vanno da soli per non rivelare il posto dove crescono i porcini. La stagione è appena iniziata, abbiamo già avuto due morti in Lombardia. Il suggerimento è quello di informare almeno i familiari sulla zona che si vuole raggiungere così da rendere più semplici i soccorsi in caso di necessità.